Negli ultimi giorni sono stati segnalati alcuni furti commessi a danno di persone anziane che vengono raggirate da criminali senza scrupoli. Il meccanismo delle truffe è ormai collaudato, rende noto la polizia di stato. Spesso viene usata la tecnica del finto tesserino del dipendente IMSS o di qualche società di servizi o delle forze di polizia per guadagnarsi la fiducia delle persone che vivono da sole e perpetrare a loro danni furti all'interno delle abitazioni. Specialmente nel periodo estivo durante il quale le famiglie si dividono per trascorrere le vacanze i truffatori entrano in azione per colpire le persone anziane rimaste da sole e i soggetti più deboli e vulnerabili. I consigli della polizia di stato per non cadere nella trappola dei truffatori sono quelli di non fare entrare in casa sconosciuti e in ogni caso se dovesse essere esposto un tesserino di riconoscimento il suggerimento è quello di chiamare immediatamente il 112. Sul sito della polizia di stato potranno essere acquisiti tutte le indicazioni e i consigli per gli anziani e i soggetti più deboli. Grazie. Grazie.